Bentornati amici lettori, sono Beatrice e oggi vorrei parlarvi del mio libro preferito. Si intitola Al di là del mare. È stato scritto da Laureen Boyk e la casa editrice che ha scelto di pubblicarlo è Salenio Editore. Mi ha colpito la scrittura di Laureen Boyk, una scrittura profonda, scorrevole e coinvolgente. E soprattutto la trama, anche se fitta, molto accattivante. Consiglio questo libro ai ragazzi che desiderano scoprire nuovi orizzonti. Il libro racconta la storia di una bambina di nome Crove che appena nata è stata spinta in mare aperto su una piccola barca. A trovarla è stato Osh, un uomo alquanto riservato ma gentile, dall'animo buono, che ha cresciuto la piccola insieme alla signorina Maggie, una ragazza carina e dolce che ha saputo dare tanto amore a Crove. Quando cresce Crove però si pone parecchie domande sui suoi genitori e sul suo passato ma non è mai in grado di rispondere. quindi piano piano dovrà ricomporre il puzzle delle sue origini. Ce la farà? Per scoprirlo vi invito a leggere questo bel libro. Arrivederci!